Stava passeggiando in centro Milano Marittima con la moglie quando ha sentito gridare una donna che chiedeva di fermare un ladro. Ha visto un ragazzo allontanarsi in bicicletta con la borsa della vittima e si è messo all'inseguimento. È riuscito a fermare il borseggiatore Marcelo Enriquez dos Santos de Fonseca, un cuoco 24enne già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti. La borsa, contenente denaro, carte di credito e documenti, è stata restituita alla proprietaria, una 75enne di Parma. È stato un po' coincitato perché lui voleva fuggire e quindi non è stato semplice. Fortunatamente poi dopo un po' è sopraggiunta un autoradio del radiomobile di Milano Marittima e i due colleghi mi hanno dato una mano ad ammanettarlo e a trasportarlo in caserma. Sono ora al vaglio altri episodi di scippo che si sono verificati anche nello scorso anno, sempre al danno di persone anziane, per i quali potrebbero esserci un convolgimento del giovane.